Il mio nome è Dililì. Una principessa che viene dall'altro lato della Terra. Porta tuo figlio a vedere un capolavoro. Alla scoperta di Parigi! La mia prima giornata a Parigi! È tutto straordinario! Che gioia essere insieme a te sulla tua tricicletta! Una favolosa avventura nei sentimenti umani. I maschi maestri colpiscono di nuovo! Noi scopriremo il mistero dei maschi maestri. Certamente, io conosco tante persone. Signor Poster, che cosa sapete sui rapitori di ragazze? Niente, purtroppo. Potrebbero essere solo chiacchiere. Dicono che il Muller Rouge sia diventato il covo di tutti i maschi maestri. Signor de Toulouse-Lautrec. Anch'io ho dei sospetti, guardate anche voi. Tra circa mezz'ora, rapina alla gioielleria. Parigi belledotta, Parigi corrotta. Dal 24 aprile. Facciamo progressi. Certo, piccola, che sei in gamba. Oramai sei la persona più ricercata dai maschi maestri. Dal regista di Kirikou e Azura Azmar. Non aspettiamo. Dobbiamo liberare quelle povere prigioniere. E cosa fa? La nostra missione è rapire di Lily. Un film per grandi e piccoli. Da adesso abbiamo il dovere di proteggerti. Signore Eiffel! Siamo pronti a tutto pur di salvarle dalle grinfie dei maschi maestri. Noi libereremo tutte le ragazze! E questo non è che l'inizio. Dilelia Parigi. Dal 24 aprile al cinema. Quest'anno finirà il trono di spade, come sappiamo, però dovremmo dire addio anche ad altre serie molto seguite. Ve ne dico alcune. Mr. Robot, per esempio, la quarta stagione. Poi finirà The Big Bang Theory, che va avanti dal 2007. Homeland, arrivato all'ottava stagione. E Orange is the New Black, finirà con la settima. Mi mancheranno tantissimo. E a voi quale mancherà di più? Fatemi sapere. Vi ricordo che ci trovate anche su TikTok, trovate il link in info box. Ciao a tutti da Valeria.